Buongiorno a tutti, innanzitutto vi porto i saluti del Sindaco di Verona, Flavio Tosi. Devo dire che veramente giornate come questa, dove si va a premiare chi per tanti anni ha lavorato, chi ha creato l'economia della nostra città, soprattutto in un momento così difficile, e come diceva prima giustamente Morando, il turismo. Il turismo è uno dei settori che, grazie Dio, sta ancora tirando. La nostra città di Verona gode, e anche quest'anno ha avuto un incremento turistico. Dobbiamo sicuramente puntare di più. Uno degli obiettivi che dovremmo portare avanti è sicuramente far sistema. Stiamo iniziando a mettere insieme tutte le energie tra aeroporto, camera di commercio, provincia. La volontà è quella di creare nel 2014 un'agenzia del turismo, un'agenzia che sia in grado di promuovere Verona a livello internazionale, perché veramente il turismo dà l'info alla nostra città e commercio alle attività economiche. Io spero veramente che Verona e l'Italia possa uscire da questa crisi col Made in Italy. Girando nel mondo tutti apprezzano i nostri prodotti, c'è chi direttura cerca di copiarli, ed è questo uno dei canali che potrà far uscire l'Italia da questa crisi. Grazie e vediamo dopo chi sarà premiato. Grazie mille.